Ciao, sono Nenea, mi parlo del castello di Monte di Gioni. È fatto di forma rotonda perché hanno seguito la collina, apposta perché le scale cadessero quando le appoggiavano i nemici. Ma lo sapete perché? Perché traballavano e alla fine cadevano. Ma prima che cadessero accendevano i carboni ardenti perché a Monte di Gioni non c'aveva il fossato con l'acqua, ma con i carboni. Insomma, davano fuoco a questi carboni e le scale cadavano tutte giù e diventavano cenere. Ma i soldati si bruciavano. Ma però uscivano dal fuoco, ma non erano morti. Avevano solo un po' di ferite, ma non erano proprio morti. Quante porte hanno, di Gioni? Due. Una è Porta Romana e una è Porta Fiorentina. Come mai? Si chiamano così? Perché Porta Romana è di Siena e Porta Fiorentina è di... Firenze. Firenze. È di Firenze. Per cosa serviva a Monte di Gioni? Per difendere Siena da Firenze. Perché erano in guerra? Perché quando erano in guerra Siena e Firenze... Firenze combatteva non con Siena, ma con Monte di Gioni. Quindi i soldati di Firenze erano studiati perché credevano che quel castello fosse Siena. Invece Siena è una città, senza le mura intorno. No, ce l'ha le mura intorno, Siena. Ma che dici? Ma che dici? Sì, sì. Ah, già, ma ci sono un po' di resti delle mura. Ah, sì. Però, insomma, i soldati erano stupidi perché Siena aveva fatto portare un sacco di mattoni fatti con la pietra. di forma dei mattoni che ci sono ora. Lì, nel punto dove venì fondata Monte di Gioni, nella collina. Però, per fare le porte hanno abbassato... No, per finta no, racconta la verità. No, per finta no, racconta la verità. O, per fare le porte, non so, racconta la verità di Gioni. Non, 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 non so, sia un po' di Dicchiatra. Ancettate il Gioni che si è vero, non, non smi che si vorbe. Che, qui si è vero. Che. Che, qui si è vero. Il Gioni che si chiede il Gioni che si scendate. Se prende spedere un Gioni che si trodere. Non, non, non si sono corpito.